Cresce a Como, ma si trasferisce a Roma nel 1999 per seguire l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, dove consegue il diploma d'attore nel 2002. In teatro partecipa a messe in scena di Giuseppe Rocca, Lorenzo Salveti, Teatro del Carretto, Giorgio Barberio Corsetti, Emma Dante, Manuela Cherubini e Jan Fabre. È allievo dell'Ecole des Metres, diretta da Franco Quadri, nel 2005 è tra i fondatori del collettivo Malalingua Teatro, poi collettivo Attori Riuniti, in cui si dedica anche alla regia, scrivendo e dirigendo spettacoli presentati al premio Claudio Gora. Premio Scenario, Napoli Teatro Festival Italia, Incastro Festival, Festival di Ponza, Teatro Vittoria di Roma, Napoli Fringe Festival, Teatro del Carretto e il Teatro Elfo Puccini. Nel 2014 dirige, in collaborazione con Giuseppe Battiston, lo spettacolo Lost in Ciprus sulle tracce di Otello al Teatro Romano di Verona. All'interno dell'estate teatrale veronese, è finalista del premio Solinas Documentario per il Cinema. 2014, con una sceneggiatura da cui trae il film Castro, in concorso al Festival dei Popoli 2016.